Musica Durante la seconda giornata di appuntamenti dedicata alla memoria della Resistenza, la CGL di Bari ha voluto ricostruire una significativa pagina della storia italiana che aprì la stagione delle conquiste dei lavoratori dedicata alla rivolta degli Edili nel 1962, questa nuova puntata di approfondimenti. Musica Ben ritrovati con gli approfondimenti di CGL Bari Web TV, questa puntata sarà interamente dedicata alla rivolta degli Edili nel 1962, pagina significativa della storia non solo di Bari ma di tutta l'Italia, pagina che la CGL di Bari ha voluto ricostruire con un convegno dal titolo La rivolta degli Edili nel 1962, lo scorso 26 luglio al Fortino Sant'Antonio durante la seconda giornata di iniziative dedicate alla Resistenza della Memoria. Immagini e testimonianze degli scontri racchiusi anche nella mostra documentaria dell'archivio storico della CGL di Bari. Vediamo. Ha aperto la stagione delle conquiste dei lavoratori ed è rimasto impresso nella memoria come un alto momento epico dal dopoguerra ad oggi della storia civile di Bari, pagina significativa della storia politica italiana. Agosto 1962 cominciò lo sciopero provinciale dei lavoratori edili che all'epoca guadagnavano in media circa 2000 lire al giorno. Sfilarono in corteo chiedendo il rispetto del contratto nazionale. Le richieste furono un superminimo di 500 lire al giorno, il pagamento dei tre giorni iniziali del periodo di malattia o infortunio, la riduzione di tre ore settimanali dell'orario di lavoro. La protesta si spostò da Corso Vittorio Emanuele nei pressi del Palazzo della Motta sotto la sede dell'Associazione degli Industriali. E per cause tuttora misteriose la polizia caricò violentamente gli edili che però non scapparono, anzi risposero col lancio di pietre agli idrante, manganelli e gas lacrimogeni alle autoblindo. Lo scontro si fece brutale e si allargò a macchia d'olio coinvolgendo gli abitanti di Barivecchia. In sciopero per un contratto che riconoscesse garanzie e dignità sul lavoro, sugli orari, sul salario. La CGL lo organizza ma la rabbia dei lavoratori si scontra con la dura risposta della polizia e per circa dieci giorni Bari letteralmente insorge. Che cosa successe? Si persero di vista le reali motivazioni? Ma no, le reali motivazioni poi si è provato a spacciare quella rivolta dei lavoratori come una rivolta politica governata dai politici. In realtà proprio il tipo di rivolta, la durata della rivolta, la quantità delle persone che vi hanno partecipato sta ad indicare che invece era una vera e propria rivolta di popolo. che mirava a migliorare le condizioni di vita che erano assolutamente inumane, sui cantieri in particolar modo, le retribuzioni erano bassissime, si moriva letteralmente di fame a fare il muratore. e nel contempo però venivano costruiti palazzi signorili, venivano ricostruite la città abbattendo quello che di vecchio c'era e quindi il lavoratore dire che cosa vedeva? Assisteva a una ricchezza che si diffondeva, che cresceva e ad un suo impoverimento che non conosceva fine. Per cui la rabbia è sfociata alla fine quando le controparti padronali non volevano riconoscere assolutamente nulla di quello che loro stessi avevano contribuito a costruire. Questa rivolta alla fine è stata solo un episodio o una novità che ha lasciato il segno nel contesto di una città che in quegli anni cambiava il volto urbanistico in maniera tumultuosa? È stata una novità e non episodica perché veniva da lontano, veniva appunto da queste grandi trasformazioni, da una città che veniva ricostruita interamente creando grandi produttività, grandi profitti. E quelli che la ricostruivano, gli edili, non partecipavano a questi profitti. Il loro reddito restava basso, le loro condizioni di lavoro erano fuori delle regole sotto molti aspetti. Quindi fu la presa di posizione di una classe operaia che contava nella città perché la stava facendo, la stava rifacendo. E fu anche l'inizio di una nuova sindacalizzazione e di nuovi processi all'interno del mondo del lavoro. Immagine e testimonianze di che è stato protagonista di cortei e tafferugli che poi si sono inaspriti al punto da diventare veri e propri scontri tra i manifestanti e la polizia sono racchiusi nel documentario del giornalista RAI Costantino Foschini. Il ruolo della stampa rispetto a come sono stati raccontati i fatti è un po' ambiguo. Che idea ti sei fatto della cronaca di quei giorni, di quegli avvenimenti nati come protesta per il riconoscimento di un diritto e poi sfociati in guerriglia, in una sorta di insurrezione popolare? Stiamo parlando di 50 anni fa, voi immaginate, qui ci sono le immagini girate dagli operatori della RAI ma allora nel 62 la RAI in Puglia non esisteva, faceva solamente la caravella radiofonica poi c'aveva un paio di operatori e un giornalista che in caso di fatti eccezionali, incidenti stradali giravano delle immagini, ecco perché abbiamo delle immagini. Quindi certo era molto più facile la censura a controllare, c'erano molte meno fonti di adesso a cominciare per esempio non c'erano giornalisti della RAI in grado di raccontare quello che succedeva restava la gazzetta del Mezzogiorno, qualche corrispondente di giornali nazionali certamente ci fu una fortissima censura su quelle notizie l'idea che c'erano i carri armati, gli autoblindo in corso Vittorio Emanuele era una cosa che gli italiani e anche i pugliesi, anche i baresi che non erano lì in centro non lo seppero che cosa stava succedendo. E' con questo documento storico che la Cigelle di Bari apre il convegno dal titolo Bari 1962, la rivolta degli edili, nell'ambito dell'iniziativa La memoria della resistenza, l'identità della democrazia. Dopo il 22, l'abbattimento della Camera del Lavoro di Bari la resistenza eroica di Vittorio e compagni nel 62 questa straordinaria battaglia degli edili baresi che sta a dimostrare che il popolo valese ha dato un grande contributo per la democrazia, un grande contributo per lo sviluppo del mondo del lavoro per l'affermazione dei diritti anche nel mondo del lavoro. I costruttori finalmente si sedettero al tavolo delle trattative ed allora cominciò una prassi di incontri che seppur duri e conflittuali costituì la svolta del 62 con la nascita degli enti bilaterali come tavoli permanenti. Gli edili ottennero 220 lire, uguali per tutti la corrisponsione del salario in busta paga e altra importante conquista fu la scuola edile. Michele Mattarese, presidente Forma Edil perché nasce questa scuola, chi forma, com'è strutturata? Questa scuola nacque niente di bene che nel 1963 allora fu istituita e proprio per istruire gli operai allora c'era molto bisogno di mano d'opera nel campo dell'edilizia per cui si andava a rubare gli operai dalla campagna per portare all'edilizia e qui c'era necessità di formare questa mano d'opera. Nel tempo questa formazione l'abbiamo un po' alla volta estesa non soltanto agli operai ma anche alle imprese perché pur l'impresa essendo una scuola paritettica cioè viene pagata, alimentata finanziariamente da parte delle imprese però è sempre insieme ai sindacati viene condotta questa scuola e allora noi abbiamo bisogno oggi con le leggi che hanno fatto di istruire anche le imprese per cui stiamo preparando proprio un master addirittura per i figli del venditore o anche per ingegnere, per architetto eccetera in modo che da parte prepariamo gli operai e prepariamo le imprese. Sono in compagnia di Beppe Fragasso, presidente della Cassedile e qual è il ruolo della Cassedile oggi? In questo momento il ruolo più importante della Cassedile è quello di tenere compatto il settore attraverso la bilateralità quindi attraverso il rapporto fra imprese quindi tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. È un ruolo non poco importante in questo momento di crisi perché nel momento di crisi si sfilaccia il tessuto si perde lavoro, si perdono posti di lavoro ma soprattutto si perde insicurezza. Allora la Cassedile in questo momento sta lavorando per dare una serie di agevolazioni voglio dire sia alle imprese che poi significa regolarità contributiva per i dipendenti per tenere in piedi questo settore che dobbiamo dirlo in Puglia ha perso 20.000 addetti quindi è un settore che o meglio probabilmente questi 20.000 addetti non sono tutti persi nel settore dell'edilizia ma sono 20.000 addetti irregolari che oggi non sono più regolari. Abbiamo bisogno di un'edilizia diversa che punta alla riqualificazione delle città al non consumo del territorio al risparmio energetico abbiamo bisogno già di una politica industriale per l'edilizia che però ci deve essere qualcuno che la fa i governi che hanno gestito la crisi fino adesso e anche quest'ultimo governo non sembrano aver intrapreso la strada giusta anche nel decreto sviluppo mancano quegli interventi selettivi capaci di indirizzare lo sviluppo nella giusta direzione e soprattutto di tenerlo ancorato ai diritti del lavoro alla qualità del lavoro Bene è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento e alla prossima settimana arrivederci